Bomba Day c'è la data, giovedì 27 aprile sarà questo per Cismondelgrappa, il giorno da cercare in calendario, deciso dopo il primo incontro tecnico convocato dalla Prefettura nella sede dell'amministrazione provinciale a Vicenza. Da qui al 21 aprile intanto i guastatori della Folgore saranno impegnati nel procurarsi il materiale necessario e realizzare le opere di difesa a tutela dell'incolumità pubblica e delle strutture in caso di esplosione non controllata. Un'evacuazione questa volta parziale dopo un primo sopralluogo dei militari del genio guastatori di Legnago infatti saranno 226 metri quantificati di sgombro totale da via Roma 21, punto esatto del ritrovamento dell'ordine in esploso. Ovviamente il compito del comune sarà quello di procedere all'evacuazione, garantire che i luoghi siano vuoti con l'ausilio e il supporto delle forze dell'ordine e ovviamente prendersi cura delle persone sole, delle persone che hanno difficoltà motorie così come è stato nel precedente Bomba Day. Saranno circa 300 gli abitanti che evacueranno dal centro di Cismondelgrappa, un intervento di bonifica che convolgerà a cascata anche parte del territorio. Il raggio di intervento include sfortunatamente sia la ferrovia che la statale 47, quindi entrambe le arterie in quel giorno rimarranno chiuse con modalità che saranno definite nei tavoli tecnici che verranno convocati nelle prossime giornate. Grazie. Grazie.